nella seconda esercitazione creeremo il nostro quaderno elettronico effettuando una registrazione presso un servizio di file sharing il servizio che abbiamo scelto è offerto da media fire quindi digitiamo www.mediafire.com la prima operazione da fare è registrarci clicchiamo quindi sul pulsante sign up per chi conosce l'inglese sign up la prima cosa che il sito ci richiede è quello di scegliere un il tipo di servizio che vogliamo effettuare ne vogliamo scegliere vedete molti di questi servizi sono a pagamento noi sceglieremo la versione free e quindi cliccando sul pulsante try it inseriamo i nostri dati usiamo come email l'email che abbiamo creato nell'esercitazione precedente inseriamo i nostri dati questo è opzionale dobbiamo inserire una password usiamo la stessa password dell'email per semplicità quindi la parola laboratorio seguita dal numero dell'anno e dalla lettera della classe anche in questo caso abbiamo una captcha da decodificare quindi clicchiamo su create account and la massa Grazie.